ciao barbie family e bentornati in un nuovo video stiamo organizzando con il cavalletto nuovo quindi c'è il microfono incorporato e vediamo l'audio come si sente come stiamo diventando professionali madonna santa oggi andremo a denbox a denboxare questa barbie che è mia certo come no è il regalo di natale fra un po' arriviamo all'altro natale io devo aprire ancora le cose di natale guarda c'ho ancora la maglietta abbinata e dietro se non vedete ci sono qualche regalino di natale perché io mi porto avanti è così che bisogna fare comunque va a far bagno allora forbiciotta già equa andiamo ad aprire la barbie lux signature la numero 12 eccola qua è la curvi troppo bella niente da dire mi fa perdere vedi che distrae questo coso funziona pure per gli umani allora la scatola davanti come tutto solo sono davanti e trasparente nelle altre parti no qua troviamo barbie signature da questa parte lux e da qui model numero 12 sopra bianco sotto tutte le avvertenze varie e andiamo dietro dietro a trovare l'italiano qua troviamo la serie questa l'abbiamo completata tutta finalmente perché dietro ho anche questa da aprire che ho preso con il prime day quindi che non era in prime day però era in sconto qualcosina di poco comunque l'abbiamo già vista e lei smettila simona andiamo subito 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 ad aprirla che questa era ora adesso da oggi avanti poi martedì la macchina andrà dal dottore e c'è un piccolo problema c'è un piccolo problema quando poi andiamo a ritirare devo andare a prendere anche il materiale per fare la casa perché se devo andare a lontano c'è lontano codio dove lontano e si è l'iro e merlaine alla fine sa un'ora di quattro ad alessandria non c'è non lo so devo guardare se c'è qualcuno di alessandria che c'è l'ha del lino e merlaine me lo dica vado 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 ma andiamo 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 ok scatola vuota ecco qua lo sfondo bello lo sfondo è sfumato nel grigio nero tutto sfumato dietro che non vado a togliere c'è il certificato di attenti sui te e ora andiamo a questo taglia tutti i giorni l'erba non c'è più di erba cosa taglia la terra vabbè decidiamo di fare noi il video poi a quest'ora taglia l'erba insomma un po' di contenere allora c'è ma tutto qua ha fatto cosa tagliato il cespuglio c'è un giardino della madonna ti ho visto eh è inutile che fai così ti ho visto cosa hai visto che cosa hai visto niente guarda i tuoi nuovi occhiali eh questi tuoi vatti ah i tuoi nuovi occhiali mamma sì al contrario cavolo ok libera non è vero dove è legata libera qui cioè il il piedistallo che andremo subito senti io che cosa niente qua il piedistallo ah già questo qua è l'altro pezzo del piedistallo e qua dietro questo poi rimetto dentro grazie con tutti i pezzettini grazie ma cosa c'è questo? mettilo dentro andiamo a montarlo il piedistallo è semplice base nera e trasparente qua come tutti gli altri andiamo al pezzo che cos'è era incollato a qualcosa? vuol dire che era incollato a vestito allora lei è la curvi già l'avevamo vista nella scatola la bella ciocciarella allora eccola qua capelli castani eh legati con una coda di lato leggermente mossi vedete è la tirata la coda che non so mi sa che la slegherò la riga di qua il trucco è ragazzi è di una cosa stupenda allora gli occhi sono di quel color nocciola ok il trucco sotto qua è verde acqua viola sopra e un azzurrino sembra tipo che ha un eyeliner sopra l'occhio azzurrino poi viola e sfumato bianco con i brillantini sopra qua allarcata sopra bellissima la bocca è chiusa e mamma che bella che è cavolo è rossetto color rosa rosa sì c'è rosa però non è quel rosa acceso voi adesso lo vedete magari in video sembra rosa più però è rosa un po' più curvi l'abbiamo detto indossa ha un vestitino molto bello qua è si può dire non pagliettato non pagliettato brillantinato comunque brillantinato stoffa brillantinata le due bretelle color argento anche questo va solo brillantinato comunque sotto è nero vediamo se elasticizzato sì con arricciatura ai lati molto bello molto molto bello corto sopra al ginocchio indossa scarpe aperte col tacco color argento tutte aperte molto belle molto belle tacco bello appuntito molto molto belle che dire i movimenti sono sempre gli stessi snodo alle ginocchia ai piedi piedi però questa scarpa non la fa muovere il piede però se andiamo a rimuoverlo il piede si muove ok adesso vabbè è nuova quindi però questa scarpa che bella non può muovere il piede poi snodo alle polsi ai gomiti sì c'è lo snodo è solo che è duro questo gira cos'è l'avambraccio non so professionale il corpo no il corpo sì scusate becille che sono e ah il vestito dietro c'è il velcro eh come vedete mosca la testa che giuira 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 sono fissa questi sono un po' insieme i movimenti le conoscono tutte le vedo su google si ma madonna mia queste mosche eccola qua molto molto bella penso di avere sfigato di accessori non ne ha non ne ha non ne ha molto molto bella veramente veramente l'incarnito è incarnito canagione la canagione abbronzata è abbronzata è mulatta no non è mulatta no 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 abbronzata sì tipo carriana bah vabbè comunque eccola qua molto 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 bella su amazon c'è ancora se prendetela perché veramente ne vale la pena veramente veramente tanto che bella che è bella faccio vedere da vicino è stampata molto molto bene l'opinning possiamo mettere canzoni di come luccica il corpetto anche qua è un po' arricciato bene consiglio l'acquisto contro niente però tanto peccato che boh non ne facciano uscire più di lux perché veramente le serie deluxe a parte gli ultimi che si sono belli li prendo li prendo perché mi piacciono però preferivo le versioni prima però c'è il che è muscoloso è molto 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 bello però magari sai dalle foto vederle dal vivo è un'altra cosa adesso però boh loro le foto erano così e dal vivo sono così e foto sono belle e insomma peccato che quando la Mattel fa una cosa bella finisce subito Mattel ripensaci per favore cosa ne dici entra dentro che badonna sta mosca sembra cattiva è molto bella è molto curvi è la ceciarella bello il vestito molto così non puoi mettere le altre curvi anche certo grazie e comunque anche su queste la Mattel il viso e corpo non combattono però dettagli lasciamo stare fa niente però adesso ci manca si consiglia ho detto adesso ci manca solo l'ultima serie che a Natale qualcosa a Natale puoi avere tutte le bambi che vuoi ma quando mai perché 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 ci vuole il portafoglio così e noi ce l'abbiamo così a Natale non puoi avere tutto quello che vuoi bene ho detto basta finirci attorno mettiamola con lo stambeck angel compratela eccolo qua con il suo stambechino il suo stambechino papino papapino papapapapapia bene andiamo fuori a farci qualche foto niente detto questo lei a ara trattino gossa su tiktok ha fatto un sacco di video di dose e dadda e donne l'ha ripubblicato sul suo tiktok quindi presumiamo che finisca in un video di dose una reaction di riccardo dolze sarebbe davvero divertente vedere cosa dicono allora no 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 e ti ho detto gli animali che scappano e quello della cimice non è andato però fa niente però è divertente lo stesso però non è andato e poi ti avrò detto qualcos'altro perché il mio cervello gira ed è ampio bene detto questo noi ci salutiamo poi ha ripubblicato quell'altro smettila sono 16 minuti devo velocizzare tutto poi detto questo noi ci salutiamo vediamo un momento al prossimo video mi raccomando mi raccomando like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per i genitori dei video e ci aspettano tutti gli amici ci aspettano adesso te lo fico sai dove te lo fico io ecco grazie grazie iscrivetevi al canale attivate la campanella speriamo che l'audio funziona bene beh dai basta chissà cosa sentono loro col microfono se io faccio così torni l'orecchio ah è vero ah basta 17 minuti già stop ferma ciao ragazzi acquistatela perché è molto bella la babuina non applaudi alla bava la facciata babuina ciao 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 ciao